Renzi le ha riconosciuto una cosa, forse è stata la prima volta che le ha fatto un complimento pubblico perché ha detto di sicuro non dubiterò mai del fatto che lei sia sempre stato e sempre sarà contro la mafia e si riferiva al caso di Matteo. Che rapporto c'è tra voi due, proprio a livello personale in questi mesi di governo insieme? Sinceramente non è mai capitato che ci incontrassimo personalmente. Se ci sarà occasione di incontrarci parleremo e probabilmente troveremo tante divergenze e magari prenderemo un caffè insieme, non lo so, ma non c'è nessun tipo di problema di carattere personale. Questo è quello che io devo dire ai cittadini, non condizionerei mai il rapporto con un'altra forza politica di maggioranza a dinamiche personali.